Miriam Seussi. Ho 21 anni. Non aver paura, se ne sono andati. Ha bisogno di vedere un medico. Mi dia un suo documento. Per favore, mi aiuti. Per favore. È la legge, non posso. Perché prima la polizia deve avviare un'indagine. Deve andare prima in questura e sporgere denuncia. Avevano le tessere della polizia. E questo che cosa prova? Va a casa, fatti una bella doccia e cerca di rilassarti. Togli le mutandine. Cosa? Non devi lasciar perdere. È un tuo diritto. La mia vita è come un film di zombie. Quei maledetti morti viventi non fanno che perseguitarmi. Cerco di fuggire. A volte ci riesco, altre volte me li sento alle spalle. Vorrei che mi sbranassero. Vorrei soltanto diventare uno di loro per potermi infine riposare. E dopo tutto il male che mi avete fatto, avrò la mia rivincita. Vorrei un film di zombie. Grazie a tutti.